Alfonso, alla mia età, quando sei a letto con una donna e senti formicolare le mani, o è un orgasmo o è un inferto. È una dipendenza, una malattia. Quelle donne non erano amanti. Che cos'erano? Clienti. Il grande gigolo. In questo momento, tua moglie sta trombando con la terapeuta. Sento un grandissimo desiderio di offendermi. Perché ci hai trovato a lettenzione? Ma, che dite? Se per caso cadesse il mondo, io mi scordo un po' più in là. Devo chiederti un favore. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. Potrei darti una perceposta delle ricavi. Ma per fare cosa? Marchette, marchette. Alfonso è un sex worker? Sì. Ma no, mamma. Perché sei giovane. Toy boy. Cosa? Non c'è guerra, quando ho letto l'amore c'è. Vedrai che bomba che ti faccio diventare. Come è bello far l'amore da Trieste. Sbattete, sbattete. Che forte. Come è bello far l'amore, io sono pronta e tu. Tanti auguri. Ma che mi sono passata a mio suocero. Così, così. Ci siamo quasi. Cosa è stato bravo? Io. Sì. Bravo, figlio mio. Te la hai fatto. Trovi un altro più bello. Che problemi non hai.